Questo segno, inaspettato e gravoso, mi ha spinto Ad assumere questa importante decisione Siete incaricati di recuperare un carico di 4.018 doci abbronzati da consegnare a ogni luogo strategico dell'impero Tonno, questo pianeta è molto diverso da come lo ricordavo Lei è sicuro di aver individuato la piattaforma spaziale che cercavamo? Lì miseriaccia di suprostata ci può scommettere lo monocoli? Aspetta che ti levano maschi! Quale problema siete riusciti a individuare? È già tutto rientrato Una bruciatura al naso So cosa ha fatto E questa è quella che credo che sia Ne compro 12 chili Ma che è sta tanica fumanti? Non la tocchi! Lei non sa cosa può capitare a chi assume questa medicina senza averne realmente bisogno Lo vedi quel piccolo pianeta desertico? È il pianeta Nemesi Attenzione! Nuove coordinate insalite Nuova destinazione Pianeta Nemesi Per pianeta è così brutto che mi fa un po' vita! Si prepari per l'esperienza di una vita intera! Mi piace tutta il comune Pianeta? Grazie per la visione! Grazie per la visione!